L'avvocato Ezechia Paolo Reale ha scritto una lettera aperta ai suoi sostenitori per ribadire il profondo rispetto per il loro magistrati e nella funzione della Maggiustizia. Il riferimento neanche tanto velato è alle critiche rivolte a vario titolo sia ai giudici del Tar sia al presidente del CGA che ha emesso di recente il decreto con cui sospende per un mese l'efficacia della sentenza del Tar. Un magistrato scrive in Reale nella sua vita privata le sue idee, le sue preferenze in ogni campo compreso quella della politica e ha un vissuto che comprende rapporti personali e professionali anche con persone che ricoprono ruoli nelle seduzioni e nella politica ma quando indossa la toga tutto questo gli diventa estraneo e garanzia del rispetto del diritto e delle regole funziona necessaria per la vita della collettività. Il presidente del CGA di Palermo spiega in Reale ha ritenuto prudente che la decisione del Tar non sia eseguita immediatamente e in attesa che venga compiuta una valutazione completa sull'opportunità di attendere alla decisione finale. Prima di interrompere la continuità istituzionale nella prima città capologo di provincia nella quale viene annullato un'elezione amministrativa ha emesso un provvedimento provvisorio delle durate di circa un mese con il quale senza toccare la sentenza e senza affrontare alcune questioni di merito ne ha sospeso l'esecuzione convocando le parti interessate per il 15 gennaio data nella quale il CGA deciderà se sia effettivamente opportuno attendere la decisione finale prima di fare decadere il sindaco e insediare il commissario regionale o se la ragione di prudenza non siano sufficienti a giustificare il mantenimento in carica di organi dei quali l'elezione sia stata dichiarata nulla seppur con una sentenza non ancora definitiva. Reale scrive nella lettera di trovare insopportabile che il dibattito rancoroso e livoroso si stia concentrando sulle persone dei magistrati che nulla di diverso hanno fatto se non applicare secondo la loro scienza e coscienza ciò che hanno ritenuto giusto e che rientrava nei loro poteri e doveri. Per questo dice di ritenere deprecabili e squallidi le labili insinuazioni provenienti purtroppo anche da soggetti istituzionalmente qualificate proposte dall'opposta tifoseria sulla moralità e l'indipendenza dei magistrati del TAR. Ritengo altrettanto deprecabili, conclude Reale, quelle sul presidente del CGA.